Salve a tutta la gente di Youtube, io sono India, benvenuti in questo nuovo fantastico video! Siamo quasi arrivati verso la fine, lo sento! Siamo su FIAR2 Project Origin e ci siamo lasciati con il sergente Kegan che non era in condizione di combattere chissà il perché, mentre il logotenente l'ha ricompagnato al veicolo armato ci ha detto di andare alla scoperta a cercare questo pugno di serpente mi sono scontrato contro molti replicanti e molta forza armacan sono arrivato all'infermeria e abbiamo scoperto che c'è un ascensore che ti sta portando in qualche posto segreto forse l'area 51, quindi continuiamo! Attenzione, settore 3, il blocco di sicurezza Che peccato! Dammi i dati per la correzione I dati? Non funzioneranno! Deve funzionare! Non ti rendi conto di cosa c'è in gioco Dovresti dare un'occhiata fuori Non riuscirai a fermarla, il suo potere sta già aumentando e la cosa non può che peggiorare Non puoi rischiare, non abbiamo altra scelta C'è un'alternativa, sta cercando il video da un bel po' C'è un modo per distruggerla Ora basta! Dammi quei dati maledetti! Ok, va bene! Merda, prendili! Alla fine di tutto vi ringrazierai Per allora sarai morto A po' di fiducia, Terry Certo che ho fede, che per allora sarai morto Questo è Puglio di Servente, sbrigati! I tizi di Armacam saranno qui tra poco Genevieve ha chiuso tutto per mandarle in tiste, ma avanzano distruggendo le porte Sono fuori dal sistema e non posso essere d'aiuto Cerca un terminal di sicurezza per disattivare il blocco Trovato! La password è Puglio di Servente La password è Puglio di Servente La! La password è Puglio di Servente E' solo Ok 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 Di quanti stavo facendo fuori piano piano, eh? Au Mi serve vita però Mi serve vita Ok Non sono tornato indietro Che coglione Non me lo sono aspettato Non me lo sono aspettato Perché mi distraigo così facilmente io Allora, ricominciamo Au, au Mi serve un aiuto Mi serve una copertura Ecco di qua stronzetta Ok Ok, andiamo andando a questa C'è due ore e quattro In blocco Per piacere riprovare Che tardi Mentre io sto stermiando Sì, tizia Ha, ha, ha Cosa è che c'è lì? Ah, ok Mi serve un aiuto Ok, andiamo andando a quella Ah Ok Ok No, andiamo andando a questa Ok Allora andiamo da questa parte E sblocchiamo qua Blocco annullato Scusate un attimino Piccoli problemi tecnici Ritorniamo Sofia Ok Ho dimenticato di dire Di fare attenzione nella zona di sequestro Se ne mi aveva aperto le celle Per guadagnare tempo I campioni sono pericolosi Grazie per il suggerimento Quindi vuol dire che non soltanto Dei soldati dell'arma Dei cloni devo attaccare Ma anche di muschi Apri subito questa porta Perfetto Ammazzate questo pizzo sulla cuore Senta il video Senta il video Pura polizia Sta arrivando puttana Ma cosa? Arrivavano con il fucile a pompa Così a rato Apri subito questa porta Guarda come li ammazzo Guarda come li ammazzo Tizi volanti Così a caso Guarda Guarda Siete Siete Guarda come si vi attacca 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 Ritirata! No, ce l'hai un po' di vita? Oh grazie! Hai fatto fuori molti dei neri! Comprimenti, sono senza parole! Hai visto nulla da accendere! Sei una macchina? Sequenza di decontaminazione in corso! Attenderemo! Allora vuoi che ti faccia vedere? Non ti preoccupare, ti faccio vedere il male, strozza! Non vedo! Dai! Dai! Au! Gio nelle palle! I figli non giù! Dai! C'è la testa! No, cazzo! No! La testa lì! Oh, mi dispiace! Ok, manca anche l'altro tizio! Dov'è l'altro tizio? Credo tantissimo che l'altro tizio stia meglio di quell'altro! È bene? Ti vedo! Iscriviti al quale! No! Si, queste ne hanno più? Chiamata! L'ambna è! Accendio! Una backata! Tornata! No! Oh ciao, adesso arrivo subito da te, ok devo soltanto andare in quell'altra porta, devo solo capire dov'è l'altra porta, ecco ti guardo, oh no Vieni qua Oh Uli Uli Al posto di Sta Più efficiente Più manuabile E più Soprattutto Ce l'hai fatta, pensavo di essere perso, mi chiamo Terry Alford, detto pugno di serpente Oh ciao Ho sentito qualcosa? Probabilmente non era nulla di che Con l'aiuto di Stokes sono riuscito a collegarmi al computer del vostro veicolo armato, ora sto caricando tutti i miei file, possiamo darci un'occhiata lungo il percorso E comunque non metterti le mani nel naso, lei ci osserva con le telecamere ma non può sentire chi ti può insultarla se vuoi Testa di cazzo! Il primo dei file è terminato Possiamo prendere l'ascensore nell'ingresso principale ma ci tocca passare per la zona di sequestro, hai pensato a tutti i campioni? Oh no, non ci siamo, i replicanti stanno arrivando a frotte, credo stiano arrivando a causa della tua firma telestesica, sei come una calamita tra loro Oh vabbè, grazie Ho qualcosa che può interessarti, l'ho presa dal laboratorio di armi sperimentali quando sono cominciati i casino A proposito, hai mai visto un combattimento di ippopotami? Fanno la cacca e agitano la coda come matti e la cacca schizza dappertutto, è una cosa lucida Che schifo, perché parli di questa cosa? Ecco, è solo un prototipo e ha ancora dei difetti ma non è per nulla malaccio Oh grazie Usciamo subito di qui Oh merda Eh ciao tizio Ah però questa cosa mi piace Oh nice Quindi evitiamo un po' di rinforzare Ohhhh Oh oh Ohhhh Mio che ho trovato una nuova arma Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Meta! Ah che devo andare adesso? Ah, no! I qua! Ah che devo andare adesso? Ah ok, devo andare adesso con la... Ah? Ah! Ah, che peccato! Non è qui! Dove devo andare? Ah! Che idiota! Adesso corre! Corri! 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 No hai triple kill, madafucca! no 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 vabbè io voglio quello no dobbiamo buttare la trama no che peccato sono coñone sono coñone sono coñone sono coñone no 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 ma io ho sparato ah c'era quella a destra psst psst c'era Grazie a tutti. Guarda come partono. La bulla è piena narda! Oh cazzo che mio! Oh cazzo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.